Quest'uomo, Emmanuel Macron, potrebbe essere il futuro presidente francese. Il candidato di On Marche, movimento centrista assimilabile allo spagnolo Ciudadanos, sfida apertamente Marine Le Pen con un meeting a Lione, proprio nelle ore in cui la leader dell'ultra-destra si trova in città per la due giorni del Front National. E Macron marca subito la distanza. Vi rassicuro, non ci sarà un muro nel mio programma. Noi abbiamo le frontiere europee. E da lì la nostra vera sicurezza. Ex-socialista in rapidissima ascesa, Macron, secondo i sondaggi, arriverà secondo al primo turno e al ballottaggio potrebbe stracciare la Le Pen. Come? Con i voti dei suoi ex compagni di partito e con quelli dei repubblicani, il cui candidato, Fillion, è in discesa.